Cos'è la cistite interstiziale? La cistite interstiziale, IC, è una condizione associata alla vescica. Le persone con cistite interstiziale sperimentano dolore pelvico, difficoltà con la menzione dolore alla vescica quando le loro vesciche si riempiono o si svuotano. La causa di questa condizione non è nota poiché le persone rispondono in modi molto diversi ad alcuni dei trattamenti, alcuni medici hanno suggerito che questa condizione dovrebbe essere nota come sindrome della vescica dolorosa, il che riflette il fatto che si tratta di una collezione di sintomi che può essere causato da cose diverse, piuttosto che da una singola malattia. Sia che si chiami cistite interstiziale o sindrome della vescica dolorosa, questa condizione può essere molto debilitante per le persone che lottano con esso. Nei pazienti che sviluppano cistite interstiziale, la capacità della vescica diminuisce, causando un aumentato bisogno di urinare. Anche la vescica si infiamma, il che significa che può diventare doloroso mentre si svuota o si riempie. L'infiammazione cronica può portare a cicatrici e lesioni nella vescica, che causano ulteriore dolore al paziente. Questa condizione viene spesso erroneamente diagnosticata come infezione della vescica e ai pazienti possono essere somministrate diverse altre diagnosi e trattamenti prima che loro medici si rendano conto della causa del problema. Tipicamente i pazienti vengono diagnosticati mediante un processo di eliminazione, con il medico che prima esegue il test dell'urina del paziente per segni di infezione, e poi esegue una citoscopia per esaminare la vescica in cerca di segni di cancro e una biopsia per vedere come può essere infiammata la vescica. Questi test possono essere utilizzati per determinare se l'ito di un paziente è ulceroso o non ulcerativo. Nei pazienti con cistite interstiziale ulcerosa, nella vescica sono presenti ulcere note come cerotti di unere e la rimozione chirurgica di tali cerotti può apportare un notevole sollievo. Nella IC non ulcerativa, il paziente non ha ulcere nella sua vescica, anche se nella vescica sono visibili piccoli segni noti come glomerulazioni. Alcuni pazienti possono gestire la loro cistite interstiziale con farmaci, inclusi in farmaci per la gestione del dolore per ridurre il dolore associato alla condizione. È stato anche dimostrato che la stimolazione elettrica del nervo è benefica, rielaborando le vie nervose per limitare il numero di segnali di dolore inviati al cervello. Anche la distensione della vescica o l'instillazione con i farmaci sembrano aiutare alcuni pazienti, allargando la vescica e l'irritazione lenitiva. A volte, un medico può raccomandare un intervento chirurgico per la cistite interstiziale. Un'altra opzione sono i cambiamenti nella dieta, poiché alcune sostanze sembrano irritare la vescica più di altre. Un paziente può aver bisogno di seguire una dieta di eliminazione per determinare quali sostanze scatenano attacchi di dolore e irritazione. Una volta che è stato generato un elenco di cibi e bevande pericolosi, il paziente può evitare queste aggiunte alla dieta e ridurre il dolore da cistite interstiziale.